Luigia, io ci ho rinunciato. Basta, io mi chiudo in casa, tutto il mondo fuori. Gli uomini non si fanno capire, non sono comprensibili. Non si capisce. Si, allora, la cosa è facile. Per capire un uomo devi pensare come un uomo. Capito? Non ho capito. Eh, bravo, vedi, il giorno che non hai capito, sembra un uomo. C'è chi? Non capisce mai. Non capisce mai. Ieri vuoi sapere l'ultima con mio marito? Ho detto, devi cercare di capire. Ha detto, eh, una cosa l'ha avvolta, o cerco o capisco. Non è per loro.